Finalmente! Ti prego, Christine, tirami fuori di qui. Oddio! Presto! E come? Le chiavi sono laggiù, sul tavolo. Richie! Sta arrivando, andiamocene! Devo andare e torno a prenderti dopo. No! Non lasciarmi più con lui, no! No! Uccidimi e falla finita. Dobbiamo tirarlo fuori di lei. Che intendi con tirarlo fuori? Attirare la sua attenzione, fare dei rumori, qualcosa. Oh, merda. Andiamo, Tai, è l'unica possibilità. Sei un maiale. Sei un maiale. Sei davvero pagato. Piccolo sporco maiale. Ti piace questa, vero? Ah, sì che ti piace. Lo vedo, sai? Vedo cosa stai facendo. Smettila! Oh, no! Oh, no! No! Oh, no! Sono qui. Dove sono le chiavi? Le ha prese lui. Maledizione! Ascolti! 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 Provo con questo. Sbredati. Svelta. 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 Svregati, Cristina. Svregati. Svelta. Cazzo! Margaret. Margaret. Grazie a Dio. Che cosa ci fai qui dentro? C'è un uomo che sta uccidendo. Oddio. Vorrei che tu mi dicessi perché questa puttanella è ancora viva. Che cosa? Non è possibile. Perché è ancora viva? No, non può conoscerlo. Conoscerlo? È mio figlio. Lui è la mano di Dio. Ma andai a farvi venire qui per aiutarla. Aiutarmi? No. Era Williams che volevo. Trovato. Ha ferito il mio ragazzo. Voi siete solo un extra. Perché qui? Quale posto migliore per fare la volontà di Dio? L'albergo ha ospitato deviati, peccatori, gente che sentiva voci. C'è una sola voce da ascoltare. Ed è la voce di Dio. E lui ci ha detto che cosa fare, vero? No! Lei è completamente bassa. Questa non può essere la volontà di Dio. Li vedi, i tatuaggi? Lo vedi, il peccato? I tatuaggi sono blasfemi. Non li vedi? Lei non lo conosce Dio. Non lo vedi. Non vedi il peccato. Tu lo capisci? Non è vero? Per questo hai ucciso gli altri. Io lo tocca a lei. Giustiziala. 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 Apri gli occhi. Giustiziala. Giustiziala. E lava via il peccato. Giustiziala. Quando la tua anima sarà pulita, allora tu sarai la mano di Dio. Giustizia. Bene. Lo farò io per te. Cazzo. Perché io vedo. No! No! No, prego. Non lo faccia. No! E non deluderò il signore. Jacob! Che stai facendo? Lasciami andare! Lasciami! Brutto! Bastardo! Irriconosciente! Mi hai sentita? Non vedi il peccato! No! 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 Voglio mia madre. Per favore. Hai osato portarla a casa? Non lo vedi che cos'è? Guardala, guardala avanti, guardala. Dannazione, lasciami andare. Brutto, brutto bastardo, irriconoscente. Non ha imparato proprio nulla. Non mi senti? Jacob, non lo vedi? Il male dei suoi occhi? Non lo vedi? E va bene, allora ti farò osservare più da vicino. Guarda. Guardalo. Lo vedi? Guardalo molto attentamente. Guarda. Guarda! Guarda. 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 No, no, non devi farlo. No, no! No, no, non devi farlo.